Un vasto traffico di droga tra la Liguria, la Campania e la provincia di Cosenza. L'inchiesta inizialmente coordinata dai PM della procura calabrese a marzo ha portato all'arresto anche della gelese 66enne Vincenzo Morso, da tempo considerato referente di Cosa Nostra Genova, e del figlio Gabriele Morso. Avrebbero avuto contatti con gli altri coinvolti per far arrivare droga, soprattutto a Scish, nelle piazze di spaccio Cosentine. Il Tribunale del Riesame ha individuato per alcune contestazioni la competenza dei magistrati genovesi per i due Morso e per il loro presunto contatto. Robertino Giordano è stato disposto e il giudizio immediato. A luglio dovranno presentarsi davanti al giudice Ligure. Secondo le accuse, padre e figlio avrebbero fornito un carico di Ascish per un valore di circa 40.000 euro. La droga sarebbe stata consegnata a Giordano e ad un altro coinvolto nell'indagine Gianluca Fantasia. Oltre al traffico di droga, gli investigatori hanno accertato episodi di estorsione per il recupero di denaro legato sempre al giro di sostanze stupefacenti. L'attività ha portato ad un sequestro di Ascish per circa 5 kg. Morso alcuni anni fa era stato coinvolto nell'indagine sull'omicidio della 28enne Davide Di Maria. Secondo gli investigatori, maturato per il controllo delle piazze di spaccio genovesi, era stato contestato il concorso, ma poi l'accusa più pesante e caduta per la morte di Di Maria è stato invece condannato l'altro figlio, Guido, a 21 anni di detenzione. Per il 66enne la condanna è diventata definitiva solo per le armi. Secondo gli inquirenti, nelle comunicazioni telefoniche, gli indagati usavano un linguaggio volutamente criptico, facendo riferimento ad auto o a bisarche in arrivo. Chi non pagava le forniture o le dosi acquistate avrebbe rischiato ritorsioni e danneggiamenti. I due Morso e Giordano sono difesi dai legali Antonio Ingrosso, Mario Iavicoli, Fabio Di Salvo e Laura Razzetto.